E' già processo alle intenzioni in Viale Cappuccini con le polemiche sulla pista ciclopedonale ormai realizzata di Via del Mare che si riflettono ora sull'idea dell'amministrazione comunale di rendere a senso unico e ciclopedonale anche una delle arterie più importanti della città. Dalla rotatoria di Santa Chiara e fino allo stadio Guido Biondi col senso unico di circolazione si potrebbe infatti ricavare sulla sede stradale uno spazio utile per il percorso ciclopedonale bidirezionale con Via Martiri 6 ottobre che farebbe parte dell'anello per il senso opposto di marcia. Immediatamente dei residenti hanno promosso una raccolta firme per esprimere disappunto e preoccupazioni del resto Via del Mare Docet. Temono le attività commerciali già strette nella morsa della crisi. Il progetto non è considerato affatto una priorità. Franco Di Bucchianico, uno dei promotori della raccolta firme. Per quanto riguarda la viabilità, come potete vedere, non c'è un traffico insormontabile col quale si può motivare una situazione che andrebbe comunque a restringere la carreggiata, immagino, come hanno fatto in Via del Mare. Comunque, avendo una morfologia collinare, soprattutto Viale Cappuccini, è difficilissima e disagevole anche per i furitori della bicicletta. Ora, se ci sono delle motivazioni per le quali vogliono attingere fondi alla Comunità Europea, chiedo all'amministrazione di farlo, migliorando le strutture scolastiche, sanitarie o comunque anche stradali, ma rivolgendo l'attenzione su strade che ne hanno maggiori necessità, essendo questa una strada che ha avuto qualche anno fa la miglioria dell'amministrazione Paolini e forse sulla quale loro vogliono ritorcere un peso politico. Io sottolineerei Via Belvedere che è sprovvista di marcia a piedi, è fraunosa, è priva di guardrail e si presta in maniera estrema anche ad una pista ciclabile perché c'è un velodromo e uno stadio che potrebbero fare da congiunzione a questa filosofia ciclabile che comunque non è territoriale alla nostra cultura. La raccolta firme ha già avuto inizio? La raccolta firme ha avuto inizio in maniera soft, immaginavo invece sto raccogliendo massima disponibilità da parte di tutti, anche dei condomini e quindi abbiamo raggiunto circa 500 firme in nove giorni, una media di 50-60 firme mi spinge a dire che 50-60 firme al giorno torgolo in medico di torno.